Oggi piccolo Stelvio. Simo, ma veramente piccolo Stelvio? Veramente piccolo Stelvio. Ma dai. Siamo pronti oggi. Pronti. Divisa nuova. Matteo, oggi vincente. Certo. Eccoci. Pronti. Andiamo a fare il piccolo Stelvio. Alla grande. Allora, partiamo subito con il caffè. Il caffè è bello oggi. Caffeina. Subito. Subito il caffè. Il caffè va benissimo. Esatto. Quando arrivano i ciclisti dell'Avis, oh mamma, è un spettacolo. Esatto. Vuoi un caffè, Mauri? No, grazie. Il caffè mi rende nervoso. Il caffè ti rende? Nervoso. Meno male. Oggi è venuto però. Eh, ma oggi c'è da ridere. Oggi ridiamo. Cioè. Ciao ragazzi, io vado, eh. Ci vediamo. Ma chiede. Ma chiede. Ma chiede. Ma chiede. E' andata? Eh? Eh? E' andata? Ciao, ciao. Ma chi c'è qui ragazzi? Va. Andiamo bene? Grandi. Benissimo, benissimo. Come andiamo ragazzi? Dato tutto. Dato tutto, ma sono giustati. Matteo, tutto bene? Tutto bene. Una scimmia, anche tutto bene. Una scimmia. Scimmissima. Scimmissima. Come è andata? Benissimo. Benissimo. Coca, bravo. Ma chi vi hai trovato? Da Sanremo, sono arrivato adesso. Non ce la faccio più. Buonissimo. Simo, numero uno. Grande Ambrogio. E da? Dov'è che siamo? Canneto Pavese. È tutto. La Simo. Cosa sei di terza? Terza. Terza. Eh, se dici che ti fanno bene, cosa siamo? Quinti. Enesimi. Quinti. Quintesimi. Alla grande. Alla prossima.